Voi mi chiamate il responsabile? Il direttore? Ma che cazzo ci stava a parlare? A che vuoi arrivare là? Mi dà chiamare, mi dà chiamare, mi dà chiamare la sicurezza. Ecco te! Mi chiamare la sicurezza. La sicurezza, la chiamare! Ma che cazzo ci stava a parlare? Ma che cazzo ci stava a parlare? Li vedete? Potete confermare. Negativo. Decidi tu. Ti fanno la pelle se ti sbaglio. Ti fanno la pelle se ti sbaglio. No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no!